World 2, categoria open, Pietrasanta Beach Throwdown, Giacomo Pardini di CrossFit Livorno, bilanciere da 20, bilanciere da 20, con 5 cinti in un totale di 30 kg. Siamo a 0. Siamo a 0. Dai Giacomo, spieghi bene e entra pieno. Sì, sì, sì. Sì, stira bene e tira pieno. Bravo, più così, più costante. Sì, stai manchi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 5, 4, 3, stop. 2 minuti di power smash. 6, 2, controllo. 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ti manca un minuto e dieci Vai 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 giù Ancora Un minuto da ora Vai Dai Giacchi 45 secondi 45 secondi 40 3 2 1 Go Ti allo vicino alle tibie Dai 30 secondi da ora Dai Giacomo Spara tutto 20 secondi Dai Mori dopo Vai riprendilo subito Manca 15 secondi Giacchi Vai Dai 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 Manca 10 secondi Dai uno Dai alti due Alti due buoni Vai Ancora Un altro Un altro ce la fai Un altro ce la fai al volo Niente vai Vai un minuto da ora Tres 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 secondi da ora bene dietro vai bravo così ti alle già piegati vai 20 secondi dai 15 secondi ormai resisti vai 10 secondi dai 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 5 4 3 stop stop